La situazione della ricerca clinica italiana, come spesso accade nel nostro paese, è ricca di contrasti. Si riescono a raggiungere risultati di eccellenza, ma si vivono spesso situazioni di grande difficoltà. Abbiamo approfondito la questione con il dottor Diego Cortinovis, in occasione del convegno Nespola, che ha riunito a Milano i migliori oncologi del panorama nazionale. Dottor Cortinovis, parliamo di ricerca clinica in Italia. Secondo la sua opinione, ci sono margini per poter migliorare? Si parte dalla prima definizione che la ricerca clinica in Italia è già di buon livello, in oncologia medica in particolare, e compete con quella che si sviluppa in America e nei restanti paesi d'Europa. Indubbiamente ci sono dei margini di miglioramento su diversi assi. Il primo è quello del coinvolgimento del paziente all'interno degli studi clinici. Mancano delle strategie per poter educare il paziente affinché questo pensi che lo studio clinico sia un'opzione utile e non qualcosa che è molto vicino all'esperimento dell'animale. Il secondo punto è ovviamente aumentare la consapevolezza all'interno delle varie direzioni generali che la ricerca clinica, anche sponsorizzata in Italia, è fuori era non solo di un miglioramento ovviamente della sanità, ma anche della qualità di cura che si dà al paziente, delle nuove opportunità terapeutiche che potrebbero essere implementate nella pratica clinica e che di conseguenza questo ricade in un risparmio anche nei termini di farmaci. Da ultimo ovviamente una migliore cultura anche dell'oncologo medico medio che non solo si aggiorna ai più grossi congressi a livello mondiale, ma che realisticamente diventa l'attore fondamentale perché sa quali sono i passi per portare alla ricerca clinica sponsorizzata nel proprio ospedale. Se si guarda all'imitato futuro, quali sono le linee di sviluppo di nuove terapie nel campo della patologia polmonare? La patologia polmonare negli ultimi due anni ha subito una drammatica e per fortuna molto importante rivisitazione grazie all'introduzione nella pratica clinica dalla ricerca dei cosiddetti farmaci targeted e all'immunoterapia. Gli sviluppi oggi maggiori sono il fatto di portare queste terapie in prima battuta per fornire anche nei soggetti che hanno una malattia avanzata una reale cronicizzazione della neoplasia e quindi sfruttare i meccanismi di conoscenza biologica più importanti per poter combattere il cancro, in particolar modo a livello polmonare. I meccanismi di resistenza oltretutto sono più conosciuti, i nuovi farmaci iniziano a interagire in una serie strategica che non guarda solo alla prima linea, che guarda anche alla seconda linea e le linee successive e ripeto ancora una volta questo dovrebbe portare non al concetto di guarigione del cancro, ma a un concetto di vera cronicizzazione e convivenza tra questa malattia deleteria e la persona.